grazie io grazie grazie a lei grazie a Paolo per avermi invitata anche in in questa occasione eh so di avere pochissimo tempo a disposizione ma lo stesso mi piace partire un po' da lontano ma non non mi dilungherò poi così come nel tempo e forse con una nota eh come dire un po' bizzarra forse anche un po' anacronistica eh parto da dire questo dal millenovecentosettantaquattro quando Iva Zaninchi vince il festival di Sanremo Happy Days viene trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti si tiene il referendum per abrogare il divorzio e a quell'epoca cioè in millenovecentosettantaquattro metà degli edifici che riempiono le città che noi oggi viviamo erano già lì quegli edifici di fatto erano già costruiti eh ed è proprio nel millenovecentosettantaquattro eh che eh è l'anno in cui vengono emanate le prime norme antisismiche questo vuol dire che eh metà dell'attuale patrimonio edilizio è stato costruito senza tener conto di una qualsiasi qualsivoglia norma tecnica ma per un motivo molto semplice perché non ce n'erano eh la prima legge sul risparmio energetico quindi oltre all'antisismica che oggi sentiamo come tema cogente risparmio energetico allo lo stesso eh la prima legge sul risparmio energetico nasce nel millenovecentosettantase cioè due anni più tardi della dell'antisismica quindi ancora una volta noi viviamo, lavoriamo, frequentiamo edifici che sono stati costruiti in un'altra epoca per un'altra società per altre abitudini di vita in sintesi per altre persone ma noi noi siamo cambiati noi abbiamo nuove esigenze e nuovi desideri ora quindi siamo chiamati e qua poi dopo farò una nota ricollegandomi all'interessantissimo intervento del dottor Gianni eh Verga eh noi ora dobbiamo cambiare cambiare gli edifici dobbiamo cambiare gli edifici ma c'è eh però prima di tutto l'esigenza di ridurre l'impatto energetico ed è proprio da questa esigenza cioè quella di ridurre eh tale impatto che nasce la direttiva europea sulle case green eh per la quale tutti gli immobili residenziali dovranno rientrare appunto nella classe energetica di entro il primo gennaio del duemilatrentatré ma questa non è l'unica esigenza che abbiamo peraltro e e così come le cose eh si modificano a seconda delle necessità delle persone che le abitano così le persone modificano i propri comportamenti i propri vissuti a seconda dello spazio fisico che le circonda quindi delle delle condizioni al contorno detta ingegneristicamente e per questa ragione le politiche di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbana possono aiutare non solo come si è detto più volte in questo nella riunione di oggi a valorizzare in chiave green il nostro patrimonio edilizio ma anche ad esempio a ridurre eh quelli che sono i fenomeni di emarginazione e degrado sociale la sfida che l'ingegneria ma io direi in maniera prestesa eh e più ampia la sfida eh di ognuno di noi che ognuno di noi si troverà davanti nei prossimi anni saranno proprio le città e questa sarà una sfida che a mio avviso si potrà vincere solo con le nuove visioni dell'immobiliare allargato e della cultura dell'abitare eh che siano capaci di mettere al centro le persone dove vivono dove operano le persone dove transiano le persone e quindi accogliere anche la complessità di quei due aspetti di cui facevo cenno prima a questo proposito e concludo mi voglio un attimo rialganciare alla all'intervento appunto del del dottor Gianni Verga che ha parlato di una cosa interessantissima quindi il ricorso alla sussediarietà orizzontale e lui ha detto il miracolo milanese ma adesso dice si può operare nelle grandi città io penso che allo stato attuale della normativa il miracolo romano è veramente irraggiungibile ricordiamoci che cosa è successo nel duemilaventi con il famoso articolo dieci articolo dieci bis armonizziamo queste norme urbanistiche grazie a tutti